L'uomo al mare ha fatto tantissime cose. La prima e più ovvia è il fatto che è stato utilizzato per centinaia di anni come una discarica. Poi ci sono tutti i fenomeni, ad esempio l'acidificazione degli oceani, che è dovuta al cambiamento della quantità di energia carbonica in aria, e abbiamo il rilascio di nuovi inquinanti, inquinanti di nuova generazione, per esempio le plastiche in tutte le sue forme, e dalle forme grandi, quindi dalle macroplastiche, alle forme più piccole, le microplastiche, fino ad arrivare al mondo sconosciuto, virtualmente ignoto, delle nanoplastiche, quindi tutto quello che è le dimensioni del micron.